Ciao Paolo! Allora, velocissimamente, un video su un arpeggio facilissimo che non puoi non saperlo fare. Allora, ascoltami bene. Arpeggiamo l'indice sulla terza corda, il medio sulla seconda e l'anulare sulla prima. Ok? Queste dita dovranno suonare sempre, ma sempre, queste corde, quindi. Ok? Invece il pollice suonerà una volta la quinta corda, il La, e una volta la sesta, il Mi. Mentre con la mano a sinistra devi premere La, terza corda, secondo tasto e Do. E il Mi, invece, è a vuoto. Ok? E devi fare una roba del genere. Sto facendo pollice, indice, medio, anulare, medio, indice. Ok? Ti ricordo queste dita che devono suonare queste tre corde, terza, seconda e prima. Il secondo accordo devi premere solo e Sol diesis. Il pollice suonerà la sesta, mentre queste tre sempre terza, seconda, prima. Molto lentamente, scusami, io curro. Ripeto, lentamente. Ok? Due raccomandazioni. Fallo lentamente, lentissimissimissimissimissimissimissimamente. Ok? L'importante è che il cervello dà il comando giusto. E la seconda raccomandazione è di non fare quelle cose strane tipo portarti l'anulare sulle corde di sopra o arpeggiare con un solo dito. Ok? Ti ho detto, terza corda, seconda, prima, il pollice, su un accordo suonerà la quinta e su un accordo la sesta. Ok? Inizia a fare questo piccolo esercizietto. Poi magari ci vediamo in settimana e faccio altri video, come ti ho detto nei commenti prima. Ciao!